Durante il percorso di studi possono insorgere difficoltà che possono incidere e o limitare lo studente nel suo percorso verso la laurea. Il tutor è una figura rilevante in quanto può fornire uno spazio di ascolto e confronto per comprendere quali siano le difficoltà che creano un limite, ad esempio al proseguio degli studi, indirizzando lo studente nel modo più opportuno, con l'obiettivo di individuare insieme percorsi e strategie personalizzate. Tra i problemi e le difficoltà che lo studente può incontrare vi sono problemi di natura didattica, relazionale, ma anche didattico-organizzativa. A riguardo per i problemi di natura didattica, lo studente potrà rivolgersi direttamente al tutor, al presidente del corso di studio o al responsabile della qualità del corso di laurea. Per i problemi di carattere didattico-organizzativo, lo studente potrà essere indirizzato dal tutor a rivolgersi alla segreteria didattica del dipartimento. Infine, per eventuali problemi di natura relazionale, lo studente potrà rivolgersi al tutor o essere indirizzato al servizio di counseling all'interno del centro accoglienza e inclusione. Il tutor potrà essere per lo studente una figura di riferimento nel caso di difficoltà specifiche, come ad esempio blocchi, nell'affrontare alcuni esami previsti nel piano degli studi. Infatti, durante il percorso può accadere che lo studente rimanga indietro, ad esempio per problemi personali, organizzativi o di altra natura. Il tutor potrà, in questo caso, fornire allo studente informazioni di carattere metodologico per aiutare a superare il blocco in essere, garantendo così percorsi di assistenza allo studio, ma anche a tutte quelle attività previste nel corso di laurea, al fine di migliorare la qualità dell'apprendimento e la gestione di momenti di difficoltà. Il tutor permette allo studente di mantenere alto il livello di motivazione e reperire le risorse che possono permettere la ripresa degli studi, non perdendo di vista l'obiettivo finale, ovvero il raggiungimento della laurea ed evitare, in questo modo, situazioni di abbandono. Un altro aspetto importante per lo studente che si avvia alla conclusione del percorso di studi è la tesi di laurea. Le domande che possono insorgere in questa fase sono numerose, ad esempio domande di carattere informativo, organizzativo, ma anche domande riguardanti informazioni pratiche. Tra queste, ad esempio, lo studente può aver bisogno di ricevere informazioni sulle tipologie di elaborato di tesi che potrà strutturare, ovvero una tesi di ricerca o una tesi compilativa. È utile che lo studente possa comprendere la differenza tra le tipologie di elaborato e poter così scegliere consapevolmente in quale tipologia di tesi ingaggiarsi e impegnarsi. Il tutor potrà aiutare lo studente anche a reperire informazioni di carattere generale utili alla stesura dell'elaborato di tesi, ad esempio informazioni sulle come strutturare il frontespizio, le caratteristiche di impaginazione, il fonte di stesura della tesi, ma anche modalità di strutturazione della bibliografia. Unitamente a ciò, per la stesura della tesi, è utile che lo studente possa essere guidato nel potersi approcciare ai principali motori di ricerca, attraverso i quali reperire materiale scientifico utile alla stesura della tesi. Inoltre, per gli studenti che durante il loro percorso accademico manifesteranno difficoltà di carattere psicologico o emotivo, il tutor potrà indirizzarli al centro accoglienza e inclusione. Tra le aree di competenza del centro vi è un servizio dedicato di counseling psicologico proprio dedicato agli studenti. Concludendo quindi, riteniamo che per gli studenti poter usufruire del servizio di tutorato sia un'opportunità. La presenza di figure esperte si rivela essere una risorsa a servizio degli studenti al fine di favorire il raggiungimento di un traguardo importante, ovvero la laurea magistrale in psicologia dell'intervento clinico e sociale. Grazie. Grazie.